caro veni in questo periodo del mondo intero sta affrontando sfide complicate ritengo che sia importante non perdere mai i punti di riferimento i valori e le persone che arricchiscono giorno dopo giorno la nostra vita tu e la tua famiglia rappresentate non solo per me ma anche per la mia famiglia per i miei colleghi un punto di riferimento molto importante perché avete creduto nel mio sogno mi avete spronato mi avete aiutato nel portarlo avanti sono grato in modo particolare perché siete più che semplicemente amici miei parlando di semplicità non posso non pensare a benny alla sua spontaneità per suo umorismo alle serate trascorse assieme a new york ma anche alla sua determinazione alla sua passione incontenibile per le auto e anche alla sua adorata vetina caro veni domani la tua roster vc lascerà la nostra sede san cesario per raggiungerti e bianca e potente è un esemplare incredibile siamo molto molto orgogliosi dell'opportunità che ci hai dato bene tuo padre credo ne sarebbe entusiasta anche orgoglioso non vedo l'ora di ricevere qualche foto di te con la vettura qualche foto della tua famiglia con la vettura e poter anche ricevere delle impressioni della tua avventura guidandola un abbraccio sincero orazio grazie a tutti